Le parole e i proclami quando si scontrano con la realtà dei numeri finiscono sempre con il trasformarsi in propaganda politica e la gente che ogni giorno apre il portafogli e ormai in molti casi lo tiene chiuso in tasca o in borsa diventa il solo termometro della situazione. Il presidente del Consiglio Gentiloni ma anche quello della Regione Frattura solo qualche giorno fa ha proclamato davanti agli industriali di Cernobbio che la crisi più grave della storia italiana è alle nostre spalle. Il governatore Molisano non perde occasione per ripetere, ormai come un disco usurato, che la sfida alla ripresa economica è lanciata e in qualche caso vinta. Poi arrivano le cifre che disegnano una diseguaglianza spaventosa nella penisola. Lo rivela la spesa delle famiglie divise per regioni e se il Trentino, la regione più ricca d'Italia, viene messa a confronto con quella più povera, la Calabria, il risultato è che gli abitanti delle province di Trento e Bolzano spendono 16.500 euro l'anno in più rispetto ai calabresi, un divario raddoppiato in dieci anni dal 2007, inizio della crisi. Le regioni che hanno ancora il segno rosso sui livelli di spesa delle famiglie rispetto al 2007 sono 14, dunque la ripresa di cui parla Gentiloni è solo una fiammella che si è accesa in alcune zone del paese. In Veneto, ad esempio, il buco delle famiglie si attesta di poco sotto i 5.000 euro l'anno e la maglia nera va niente meno che all'Umbria, dove la spesa media rispetto al 2007 è scesa di quasi 6.000 euro. Il segno meno si registra anche in Sardegna, nelle Marche e manco a dirlo in Molise, dove le famiglie hanno speso quest'anno 4.227 euro in meno rispetto a dieci anni fa. Una regressione spaventosa, dicono che contrasta con gli indicatori che segnano la ripresa della produzione e il boom del turismo. Se tre indizi servono a fare una prova, per la ripresa manca proprio il ritorno alla spesa da parte delle famiglie. E tra gli indicatori rilevato di recente, quello che fornisce il più ampio contributo alla crescita tendenziale è il settore export. E qui la legnata che arriva sul Molise non ha precedenti. Nei primi sei mesi del 2017 la voce esportazione ha un segno negativo del 39,8%. E se è vera la statistica dei due polli, che per una regione piccola come la nostra è sempre attuale, è altrettanto indiscutibile un trend che è più che un campanello d'allarme. L'Italia che si è messa in moto, Lombardia, Piemonte, Emilia e Toscana, a tutti i valori che superano o sfiorano il più 10% di export. Per le chiacchiere e la propaganda, ancora da rilevare, il Molise potrebbe invece piazzarsi nelle posizioni di vertice.